Il Giubileo della Misericordia serve per andare avanti sulla via della salvezza, così Papa Francesco all'Angelus, domani mattina all'apertura della Porta Santa della Basilica Vaticana. Don Fabio Mazzino, nuovo parroco di San Martino di Zoagli, il sacerdote accompagnato dal Vescovo è stato accolto dalla sua nuova comunità parrocchiale. Sfratto per il campeggio al mare di Chiavari, la struttura nell'area Apreli è l'unica attività ricettiva all'aria aperta esistente e fa registrare 15.000 presenze all'anno. Presidio di protesta contro i tagli della manovra ai sindacati, a rischio i patronati che offrono servizi gratuiti alla popolazione. Buongiorno ai telespettatori dell'ETG13, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Dunque siamo alla vigilia del Giubileo della Misericordia che inizierà domani con l'apertura della Porta Santa nella Basilica Vaticana. Momento questo che seguiremo in diretta a TV su Telepace 1, canale 15 a partire dalle 9.30. Il Papa durante l'Angelus Domenicale ha ricordato il motivo principale di questo avvenimento. Vediamo il servizio. Il battesimo di conversione per il perdono dei peccati, predicato da San Giovanni Battista, che si pone al centro della seconda domenica di avvento dell'anno C, è stato riproposto in chiave attuale dal Papa ai fedeli durante l'Angelus. Forse ci domandiamo perché dovremmo convertirci. La conversione riguarda chi da ateo diventa credente, ma noi siamo già cristiani. Questo non è vero, ha risposto il Pontefice. Per esempio, quando subiamo qualche torto, riusciamo a perdonare di cuore chi ci chiede scusa? Quanto difficile è perdonare, ha constatato il Papa. La voce del Battista invita ancora oggi ad aprire il cuore e ad accogliere la salvezza offerta da Dio a ogni uomo e a ogni popolo. E per questo inizia l'anno della misericordia. Per andare più avanti in questa strada della salvezza, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati per mezzo di Gesù Cristo. Pertanto, ognuno di noi è chiamato a far conoscere Gesù a quanti ancora non lo conosco. Ma questo non è fare proselitismo. No, è aprire una porta. Non bisogna avere remore quindi a fare conoscere Cristo sul posto di lavoro, a scuola, nel condominio, in ospedale, nei luoghi di ritrovo. Questo è il compito di tutti i cristiani innamorati di Gesù. Per vivere il giubileo della misericordia e camminare sulla via della salvezza, è importante sperimentare il perdono di Dio nel sacramento della confessione. Lo ricorda l'arcivescovo di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco. L'anno santo della misericordia ci invita a confessarci spesso, perché questo è il luogo della misericordia, e ad avvicinarci alla santa comunione frequentemente. E veniamo in diocesi, festa per la parrocchia di San Martino di Zoagli e per l'ingresso del nuovo parroco. Accompagnato dal vescovo, Don Fabio Mazzino ha assunto la guida della comunità. Nel corso della cerimonia non sono mancati momenti di commozione. Vediamo. Un passaggio di consegne nel segno dell'amicizia e della continuità. Un impegno nel proseguire lungo la strada della collaborazione tra le comunità parrocchiali di Zoagli. La sfida accolta nell'iniziare un nuovo cammino di pastore, senza nascondersi le incognite e le difficoltà che questo comporta. È una pagina bianca che si è impegnato a scrivere con l'aiuto di tutti il nuovo compito pastorale di Don Fabio Mazzino, nuovo parroco di San Martino di Zoagli. In realtà non vivo questa esperienza come un inizio, o almeno non lo è del tutto e sicuro non lo è profondamente. Io credo che dobbiamo essere anche capaci, al di là di tutti i pensieri che ci facciamo, alle attività in cui siamo immersi, a raccogliere quello che è il flusso della vita. E quindi a non essere portati via da queste situazioni, ma riuscire a raccogliere la grazia che ci salva. Nel giorno del suo ingresso, accompagnato dal Vescovo e dalla presenza discreta ma importante del parroco uscente, Don Sergio Chiappe, il sacerdote ha ricevuto la testimonianza d'affetto delle comunità che ha lasciato dopo dieci anni Santa Giulia, Sorlana e Cavi. Un biglietto da visita dell'umanità e della carità di Don Fabio, ha sottolineato il Vescovo nella sua melia, rivolgendosi ai nuovi parrocchiani. Noi lo accompagniamo con tutto il cuore perché comunque ci ha lasciato tanto, non solo come parroco ma come persona, come amico soprattutto. Don Fabio è una persona a cui piace viaggiare, il suo viaggio oggi continua qui e comunque sa di contare anche su di voi. Senz'altro, noi ci saremo sempre, credo che questo lui lo sappia, così come lui ci sarà per noi e sono assolutamente sicura che sia così. Durante tutta la cerimonia hanno vigilato sull'altare i due crocifissi, quello nero di Santo Stefano del Ponte di Sestri Levante, prima realtà nella quale Don Fabio ha iniziato il suo ministero, e quello di Santa Giulia di Centaura. Un'opera questa voluta e fatta realizzare proprio dal sacerdote in ricordo del padre scomparso quando lui aveva dieci anni. E a seguire Don Fabio nel suo nuovo compito pastorale a Zoagli, anche la mamma, che il sacerdote ha chiesto alla comunità di accogliere e custodire. E Don Sergio Chiappe, che ha assunto la carica di parroco di Sant'Ambrogio di Zoagli, dove era già amministratore, verrà festeggiato questo pomeriggio nel giorno del patrono della parrocchia. L'Associazione Musicale Sant'Ambrogio ha organizzato infatti, con il patrocinio del Comune di Zoagli, un concerto di musica classica che si terrà all'interno della chiesa di Sant'Ambrogio, sede storica dell'Associazione Musicale. Il concerto prenderà il via al termine della Santa Messa, che verrà celebrata a partire dalle 18. Protagonisti dell'evento musicale saranno la violinista di Gubbio, Katia Ghigi, accompagnata all'organo positivo dal maestro Alessandro Magnasco, entrambi musicisti di fama internazionale e dall'indiscusso valore artistico. Al termine del concerto seguirà un piccolo momento conviviale. E accompagnato sempre dal Vescovo, invece, un altro sacerdote, Don Pino Privitera, ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di San Lorenzo della Costa di Santa Margherita Ligure. Subentra a Don Bartolomeo Repetto, che ha lasciato per raggiunti limiti di età. Un'accoglienza calorosa per il sacerdote, che ritorna così a fare il parroco e mantiene l'incarico di canonico della cattedrale. Sentiamo le interviste. Con che spirito accogliete il nuovo parroco? E la parrocchia, i parrocchiani sono molto contenti perché abbiamo un sacerdote dallo spirito giovanile che attira giovani, anziani. Siamo contenti. Che comunità è la vostra? Questa? Quanti siete? Quali momenti più importanti? Circa 600 di residenti. Poi ci sono dei bei gruppi, un gruppo delle missioni, due di cui faccio parte. E poi anche giù nel circolo fanno sempre delle riunioni. Siamo contenti. È una persona che si è inserita già da marzo, mi sembra, la data. E quindi lo abbiamo accolto bene, perché purtroppo Don Berto non stava bene di salute. E quindi è giusto che la comunità abbia un nuovo parroco. La comunità si ritrova attorno a questo luogo simbolo, la chiesa, che comunque è collocata in una posizione invidiabile su tutto Altiguglia. Assolutamente sì, perché è bella, accogliente e speriamo che sia sempre piena di novità, di desiderio con i giovani. Io faccio catechismo, abbiamo una quindicina di bambini giovani, poi abbiamo gli altri che faranno poi la cresima, eccetera. Quindi indubbiamente è un'unione. Una comunità comunque che sta in alto, ma fa parte comunque del tessuto di tutto Santa Margherita di Gua. Davvero credo che San Lorenzo della Costa sia una comunità che si contraddistingue per la sua particolare vitalità. Sa essere accogliente, sa essere piena di spirito di iniziativa. E credo che oggi sia davvero una giornata di festa che questa comunità condivide con tutta l'amministrazione di Santa Margherita e con tutta la città, perché risponde a un'esigenza che da un po' di tempo si era avvertita e che con l'arrivo di Dompino, che si è integrato man mano, è entrato in serie già col territorio, ha realizzato avere un accompagnamento all'evento di oggi, che è un evento festoso. E festeggia oggi il compleanno e l'edecano dei sacerdoti della diocesi, Monsignor Nicola Tiscornia, che spegne le 101 candeline. Nato a Buenos Aires il 7 dicembre del 1914, Don Nicola oggi vive ritirato nella sua abitazione chiavarese, partecipando con slancio e entusiasmo a diverse iniziative. L'ultima in ordine di tempo, ieri a Moneglia. Monsignor Tiscornia ha preso parte alla festa per i 50 anni della Croce Azzurra Monegliese, di cui Don Nicola è stato socio fondatore. Abbiamo visto proprio la foto che lo ritrae nel momento della benedizione, dell'apertura della nuova associazione, 50 anni fa. Parroco emerito di San Giuseppe dei Piani di Ri, canonico originario della Basilica Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e cappellano di sua santità, Monsignor Tiscornia è un grande oratore e cantore. Nel giorno del suo compleanno gli rinnoviamo i migliori auguri da parte di tutto lo staff di Telepace ad multos annos. Abbiamo visto anche le foto della festa della Croce Azzurra di Moneglia, che ieri ha festeggiato appunto i 50 anni di età. Come consuetudine di questi ultimi anni, in occasione dell'8 dicembre ricorrenza dell'Immacolata Concezione, domani alle 10 al santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo, sarà celebrata una santa messa per tutti i massari dei sestieri rapallini. Durante la celebrazione verranno ricordati in special modo i massari dei fondi. E veniamo adesso alla politica amministrativa. Il campeggio turistico di Chiavari, il camping, ha ricevuto lo sfratto. In settimana probabilmente sarà imposta la chiusura. Ne parliamo nel prossimo servizio. Chiavari rischia di rimanere senza nessuna attività ricettiva all'aria aperta. Il campeggio al mare, che si trova nell'area prelie e che mediamente negli ultimi anni ha sempre fatto registrare 15.000 presenze, ha ricevuto lo sfratto. La Fondazione Torriglia, proprietaria del terreno, non ha ricevuto il pagamento degli affitti dell'ultimo anno. Il gestore, Felice Saraceno, afferma di averli regolarmente versati all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù di Roma e di corrispondere regolarmente il rimborso spese del contratto d'affitto del terreno alla Fondazione Torriglia. Il problema è che l'Associazione Alberghi per la Gioventù in difficoltà economiche non ha più girato il pagamento alla Fondazione Torriglia, che ha quindi proceduto allo sfratto, diventato ormai esecutivo. Di fatto, Felice Saraceno paga colpe che non ha. Da decenni è impegnato nel campeggio, dapprima dal 1974 come dipendente, poi dal 1993 come gestore. A sua volta, ora da lavoro a tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato, non chiede alcuni lavoratori stagionali. Negli anni a proprie spese ha portato miglioramenti al campeggio. Per salvare la situazione ha proposto un ventaglio di soluzioni, manifestando la disponibilità a una riduzione del terreno concesso in affitto e alla trasformazione del campeggio in villaggio turistico, ma nulla è servito. Ora le proposte saranno presentate da Saraceno in via ufficiale sia al Comune di Chiavari che alla Fondazione Torriglia. Si ipotizza che su quell'area ci siano altri interessi, ma nel nuovo piano urbanistico comunale non sono previsti inserimenti di altre costruzioni. Resta aperta anche la possibilità del trasferimento in altra zona. Di fatto, perdendo il campeggio, Chiavari si troverebbe priva di un'attività che garantisce un collaudato flusso di visitatori. Per chi vuole fare turismo non è un buon risultato. E nel prossimo Consiglio Comunale di Chiavari, mercoledì prossimo, si parlerà anche dell'area dell'ex convento dei fratelli Sant'Antonio a Chiavari, in seguito ad una mozione presentata dalla consigliera di minoranza Silvia Garibaldi. Risulta infatti che secondo il piano il sottotetto, una porzione del piazzale antistante e la chiesa e le aree esterne siano stati acquistati dalla società immobiliare Pedemonte per realizzare un centro fitness. La Garibaldi ricorda che gli accordi erano che tale area rimanesse a utilizzo sociale. E nella manovra 2015 del Governo sono presenti e previsti tagli ai sindacati. Ad essere penalizzati i patronati, che oggi offrono servizi gratuiti alla popolazione. Un presidio di protesta si è tenuto in questi giorni in via martiri della liberazione a Chiavari. Vediamo. Quali sono i problemi che riscontrate e che sono all'interno della legge di stabilità in esame? Allora, per quanto riguarda i patronati direttamente, è un taglio che il Governo ha stabilito e che quindi questo taglio comporterà comunque una difficoltà per noi per poter stare aperti, per poter pagare i nostri stipendi e comunque per poter dare la tutela ai cittadini. In questo senso quali sono i rischi che si profilano? I rischi che la legge di stabilità profila è quello che nel taglio che prevede, prevede anche la possibilità di fare un tarifario per alcuni tipi di pratiche e quindi questo comporterà che gli utenti, quando si rivolgeranno al patronato, dovranno comunque pagare una tariffa per avere la prestazione. Per servizi che invece oggi sono gratuiti? Sì, servizi che attualmente sono gratuiti e che facciamo a tutti i cittadini e questo comporterà che alcuni cittadini eviteranno di venire i patronati per poter chiedere la tutela e ovviamente in maggior modo saranno penalizzate le fasce più deboli. Avete paura che da una parte si possano aumentare i prezzi, quindi mettere delle tariffe dall'altra oppure tagliare delle prestazioni? Il taglio delle prestazioni non è previsto dalla legge di stabilità, però questo ovviamente comporterà sicuramente un ridimensionamento di alcune prestazioni, appunto quelle che riguardano le fasce più deboli. Nel totale il taglio a quanto monterebbe? A 48 milioni di euro a livello nazionale per tutti i patronati. Infatti state protestando qua in piazza insieme anche a tutti i sindacati? Sì, qua in piazza ci siamo i patronati del CEPA che sono i patronati che sono legati a CGL Cislewil, quindi Ital, Inas, Inca e Lacli. Domani pomeriggio, prima dell'incontro che vedrà impegnata la Virtus Entella contro la squadra del Latina, fischio di inizio alle 15 a Chiavari, i volontari della Croce Verde Chiavarese distribuiranno agli ingressi tribuna e distinti dello stadio comunale il volume Quei colori bianco-celesti, storie a fumetti del primo secolo di Entella. Per i tifosi sarà un'occasione per aiutare la pubblica assistenza acquistando una copia del libro. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il gruppo Diaspora Club Entella che ha donato numerose copie alla Croce Verde Chiavarese. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Il Corriere della Sera titola l'onda Le Pen sulla Francia, Sarkozy rifiuta patti ai ballottaggi e il Partito Socialista ritira i suoi dove non può vincere. Marine, Marion e Le Pen, oltre il 40%, Front National, primo partito, Parigi va ai Repubblicani. E sotto, vigilia del Giubileo, appello a Parigi, dei Papa Francesco, appello alla conferenza COP21, un'intesa sul clima per i bambini. Obama parla alla nazione in tv, nessuna paura, batteremo l'Isis, il presidente dallo studio Vale, come nei momenti storici, parla appunto della strage di San Bernardino. E Kerry, Russia e Iran decisivi, intervista al segretario di Stato degli Stati Uniti. All'interno del Corriere della Sera, una pagina di riflessione, l'Europa vacilla, l'avanzata della destra populista mette in dubbio l'Unione Europea così come è stata ideata finora e la disillusione non è più un tabù. Siamo sul secolo XIX, il fronte conquista la Francia, nazionalisti, primo partito, Sarkozy nessuna alleanza al secondo turno. Poi parla il Dalai Lama, serve il dialogo anche con l'Isis, l'intervista al principale rappresentante della religione buddista che dice ogni uomo ha una sua religione, ha una sua verità, l'Islam è una religione di pace, gli intolleranti danneggiano il proprio credo e i propri fratelli. Poi Obama contro il califo, tutta la potenza degli Stati Uniti, il no di Renzi ad Olanda, niente soldati italiani in Chad e Niger lotta alla Jihad. E poi c'è anche una notizia sul nostro territorio, sì di Confindustria al PUC di Chiaveri, contiene scelte verso lo sviluppo. Vediamo all'interno nelle pagine del Levante, il presidente di Confindustria Sacco dice il futuro si gioca su aree industriali Lames e Colmata, a due giorni dalla Prodo in Consiglio Comunale l'amministratore delegato di Arinox e il presidente degli imprenditori del Tiguglio promuove lo strumento urbanistico. Centro congressi, Politec e direzione possono dare la svolta, le scelte per la città. Ancora dal secolo XIX, valvole sui termosifoni, corsa contro il tempo, liste di attesa lunghissime con gli installatori e solo un condominio su dieci è già in regola. L'adeguamento degli impianti alle norme dell'Unione Europea, scadenza a fine 2016, ma il lavoro da fare in Riviera è tanto. Attenzione perché si rischiano contravvenzioni fino a 2.500 euro. Per l'adeguamento di ogni calorifero il costo previsto si aggira intorno ai 120-160 euro. Si è spento serenamente all'ospedale di Sest Levante Luigi Callegari, ottantenne e papà del nostro caro amico e per molti anni regista di Telepace Marco Callegari. Era da qualche tempo sofferente, viveva nella frazione del Curlo Alevi, dedicandosi alla coltivazione dei campi e in passato anche dedicandosi a un piccolo allevamento. Ha raggiunto in cielo la moglie Giuseppina, scomparsa quattro anni fa. Luigi lascia i due figli, Massimiliano e Marco, con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti Federico, Anna Giulia, fratelli, sorelle, la suocera Bruna e tanti familiari. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Valletti, in Valdivara, paese a cui Luigi era molto legato. A Marco e a Massimiliano e a tutti i familiari la vicinanza nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Adesso andiamo in redazione per vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti. E' con noi Alberto Viazzi. Bene, grazie. Siamo alla cronaca. I carabinieri di Chiavari hanno denunciato 5 persone, ne hanno identificate 150 e hanno controllato 100 mezzi di trasporto nel fine settimana tra Chiavari e Raval Fontana Buona. Più precisamente tre persone, due stranieri rispettivamente di 52 e 45 anni, un italiano di 53, sono state denunciate per guida senza patente. Contestualmente è scattato il sequestro dei mezzi. Un operaio di 44 anni è stato denunciato per guida in stato di ebrezza poiché sottoposto al test alcolico è risultato avere valori ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. E ancora un pregiudicato italiano senza fissa di mola è stato denunciato per rapporto abusivo di oggetti atti ad offendere. È stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. È stato trovato in possesso di tre coltelli di dimensioni superiori ai 15 centimetri. Dalla redazione tutto. Dalla redazione ci spostiamo nello studio del nostro salotto. Riprende nel pomeriggio alla fine della rotazione del TG13 l'appuntamento con il Buon Pomeriggio. È pronta? Vedo Cristina Uneto che rientra in possesso della trasmissione. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Iniziamo una nuova settimana, speriamo anche di portarla a compimento del nostro Buon Pomeriggio. Oggi avremo come sempre tanti argomenti. Riprenderemo alcuni temi che sono già stati affrontati nel telegiornale come i tagli dei fondi della finanziaria ai patronati. E poi ancora parleremo del premio Ciavai, parleremo del concorso Presepi in Fontana Buona e dell'iniziativa Sostegno del LIMA, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer. Avremo un collegamento con l'Istituto Morando di Chiavari, dove proprio sabato c'è stata l'inaugurazione di questo nuovo giardino. Avremo modo di collegarci in diretta. Ci collegheremo in diretta anche con la redazione del Cittadino a Genova, dove troveremo Michela De Leo, che ci parlerà dei preparativi nella diocesi genovese in vista dell'apertura dell'anno giubilare. Avremo anche una dichiarazione del Cardinale Angelo Bagnasco. Vi aspetto subito dopo il telegiornale. Grazie Cristina. Si conclude così questa edizione del TG13. Vi ricordo che l'informazione ritorna questa sera a 19.15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.teleradiopace.com Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.